eccoci alla quinta gita da stazzano a cadelbello è la prima delle undici tappe per completare l'anello borbera spinti adesso si cammina per un pezzo in piano qui siamo al bivio traversino perché a del bello ci vuole ancora un'ora di cammino c'è un bivio a destra e dicono che c'è una casa abbandonata andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere ritorniamo sul sentiero al primo bivio giriamo a sinistra andiamo a vedere proprietà privata a destra in mezzo c'è l'albero del fico e noi andiamo a sinistra bivio a campo lungo perché a del bello ancora 45 minuti è un po' un pantanato siamo al santuario madonna ca del bello detto anche madonna della neve detto anche madonna della neve la vista spazia sulla val borbera ritorniamo indietro sempre dallo stesso percorso andiamo a vedere